Noi dopo quattro mesi rileviamo che, eppur si muove qualcosa, si sta muovendo intorno all'ospedale, ci sono le vostre riprese. Non so se tecnicamente sono le barriere antipolvere, ma abbiamo visto delle barriere sul lato di Piazza del Collegio. Dal lato di Sant'Orsolo ancora non abbiamo visto niente. Quindi abbiamo chiesto semplicemente rispetto delle regole e quello che era stato indicato dall'ASLE, quindi delle barriere antipolvere e delle barriere antirumore, anche se quindi tecnicamente ancora non lo sappiamo. Io ho protocollato un'interrogazione in comune a cui ancora non mi è stato risposto e quindi saprò se tecnicamente quelle barriere sono state messe lì o meno. Sicuramente una grande soddisfazione anche per noi di Fratelli Italia che abbiamo posto l'attenzione della città a questo tema e stiamo vedendo dei movimenti intorno al cantiere di miglioramento.